buongiorno e bentrovati cari amici siamo qui anche oggi domenica 20 di ottobre in compagnia dell'amico pietro mazzuca pietro buongiorno buona domenica ancora buongiorno per uno speciale che come al solito io dico non ne dovremmo più fare però dopo le notizie incalzano e va bene e andiamo avanti e purtroppo sì allora pietro notizie delle ore scorse quindi ieri della maniera di ieri e su due fronti stiamo sul fronte medio oriente che ormai ci sono continuamente delle novità ci sono varie situazioni che evolvono speriamo che evolvono come ci siamo augurati verso la pace non a incrementare quello che sta accadendo quindi continuo conflitto e allargare questo conflitto e dall'altro lato abbiamo la vicenda che sta toccando da vicino il nostro paese il nostro territorio è quello del legato all'immigrazione precisamente all'albania al discorso del di questi due centri di accoglienza fatti costruire con un accordo tra il governo melone il governo albanese per poter ospitare momentaneamente in attesa poi di rimpatrio di permesso di soggiorno sul territorio europeo italiano principalmente di questi poveri passare il termine cristi usando il termine cristo per la sua eh originalità del termine con la speranza che poi loro trovino una sistemazione pietro abbiamo seguito un po' dalle notizie che ci hanno dato i media che tu non segui che a te arrivano eh quelli dei media arrivano di ripercorso tramite tramite noi che ce li scambiamo o a tuoi contatti ma principalmente da quelle che sono le notizie che arrivano a te fresche possiamo dire di giornata che altri non hanno raccontaci un po' sembra che le due notizie siano distaccate oppure mente due notizie diverse no alla fine è la stessa notizia c'è lo stesso filone nel senso che l'altro ieri ieri veramente e un missile del yesbola ha attaccato e colpito la casa di bibi netaniaun in cesarea per fortuna nessun ferito nessun morto per carità spargimento di sangue da qualsiasi parte venga non io non mi giro da una parte quando ci credete che dall'altra insomma il sangue non mi piace preferirei un bel pranzo dove ci sia convivialità purtroppo gli eventi ci dimostrano che non è così e quindi alla all'uccisione del leader di Hamas è scaturita una prima reazione e ha colpito la casa di netaniaun questo fatto ripeto per fortuna senza senza periti da soltanto una spiegazione che le difese di israele sono vulnerabili ne prendono atto tutti l'abbiamo sempre saputo ma oggi è palese hanno cercato di occultare tutto ma alla fine le cose non si possono occultare si ne dia ma ci sono a parte questa notizia che delle altre notizie che ieri c'è stata a Napoli durante il G7 una manifestazione finita come al solito con le cariche della politica e mandato guardate è facile infiltrare una manifestazione e farla degenerare in scontro perché così si parla dello scontro e non della manifestazione con tutto quello che c'è in italia telecamere in servizi di informazione che derivano non da qualche anno che derivano dagli anni bui della della guerra vera vera che abbiamo subito degli anni di piombo beh è facile identificare 50 100 150 faccine rosi prelevarle oppure non farle arrivare ma questo ancora continua a non farsi perché fa comodo dire scontri tra manifestanti e polizia no scontri tra infiltrati e polizia così cominciamo a capire meglio che chi manifesta non è un delinquente chi manifesta dice i sentimenti del popolo italiano se siamo in italia qualsiasi altro popolo nel mondo che non vuole essere soggiogato è difficile da capire beh io penso che cominciamo a dirlo poi magari qualcuno ci riflette anche perché sempre ieri c'è stata una fuga di notizie secondo le quali e segreti in maniera segretta che avevo anticipato detto non detto ma ieri c'è stata la la l'ufficialità che gli Stati Uniti hanno avuto il progetto con date quant'altro di risposta di l'idraele verso l'iran non è una bella notizia assolutamente no i documenti classificati top secret sono trappelati il 18 ottobre ed è in corso un'indagine lo chiamano incidente ma insomma fuga di notizie lo riferisce la cnn cacchio per farlo dire a una a un network come la cnn la cosa deve essere veramente grave perché non è che la cnn dice sempre tutto e come tutti quanti gli altri media è controllata e questo è un altro fatto ma c'è anche una dichiarazione una dichiarazione importante che dice il premier putin parlando della palestina è terra palestinese e non se ne andranno e i palestinesi da gaza e dalla cizondania non andranno da nessuna parte e lascia intendere che far loro pressione attraverso l'assedio non fa che rafforzare la loro determinazione a difendersi questo è il pensiero di putin la guerra si perché di guerra si tratta tra idraele jesbollah libano palestina jemen iran si sta allargando si sta facendo come una una infezione che va fermata ma va fermata non inviando armi come dico da sempre inviando i diplomatici facendo pressioni diplomatiche e finalmente cominciamo a mettere qualche sanzione vera su chi non si adegua al non diciamo diritto internazionale che non esiste più alla pacifica alla pacifica determinazione dei popoli nelle loro terre e arriviamo io chiamo il tour la costa meloni il tour il tour dei migranti migranti propri come chiamata comunque parli rifugiato perché al di là del fatto di questo fatto di quale parlerò fra un secondo dobbiamo capire che quando ci sono delle guerre le popolazioni per paura perché non hanno prospettive di futuro e altro debbono fuggire da quelle terre e andare da qualche parte dove sono più sicuri siamo certi che questa insana guerra a gaza e nel medio oriente non porterà flussi importante nei prossimi mesi di disperati che verranno da giugno se gli altri disperati che ci sono in italia che per sopravvivere qualcosa dovranno pur fare perché non c'è nessun progetto non per l'accoglienza perché dopo che sono sbarcati come sopravvivono come vivono e li mandiamo in Albania con la costa meloni ma delocalizzare perché io ho visto questo scontro istituzionale ancora una volta tra due poteri importanti che dovrebbero essere di contrapeso governo e magistratura chi ha ragione non mi interessa o perlomeno ci interessa ma guardiamo a monte per una volta quando si fa un'azione che è un'azione di governo chi la propone chi poi la mette in attuazione dovrebbe sapere capire a quali rischi va incontro siano giusti sbagliati non lo so però se i giudici hanno fatto questa sentenza hanno prodotto questa sentenza del non far rimanere in Albania questi signori si saranno avranno dato delle motivazioni giuridiche due sono i casi hanno detto il falso vanno rimossi e sottoposti al processo non hanno detto il falso hanno agito secondo le regole chi ha proposto questa idea di delocalizzare in Albania ha fatto una grande cavolata e non soltanto per lui anche per le casse dello stato pare che sia costante per loro circa un milione di euro qualcosa in più probabilmente e allora deve pagare questo che ha proposto questa cosa noi italiani che assistiamo a questo scontro istituzionale abbiamo una sola arma ci allontaniamo dalle istituzioni e questi qui continueranno alle scaramucce il governo contro una opposizione si fa per dire contro una parte che vuole andare al governo che vuole tornare al governo senza fare una politica di governo perché non basta dire accoglienza inclusione walk bisogna anche parlare di come si vuole governare gli italiani qual è l'idea di governo che si ha e certamente non può essere soltanto quello di parlare di inclusione certamente non può essere quello di parlare di sessualità certamente non può essere quello di parlare di religioni o per lo meno di religiosità sparandole a chi la fa più è alto gli italiani hanno bisogno di capire il loro futuro qual è come potranno far crescere i propri figli ammesso che ce li hanno non bastano i mille euro bisogna fare progetti strutturali affinché questi bambini che nascono possano avere una infanzia e uno sviluppo e una prospettiva di futuro in italia possibilmente accedendo anche a una istruzione importante perché ci sono stati due casi vedete due casi che io dico ormai da un po' chi ha iniziato è stata la segretaria Schlein che ha cominciato a parlare con un linguaggio forbito con parole desuete splendidamente messe in consecutio temporum hanno cominciato a dire non si capisce no lo capisce chi non ha una cultura adeguata quindi bene ha fatto la Schlein a parlare con questo linguaggio ma pochi giorni fa lo stesso linguaggio preso in giro anche lui l'ha utilizzato il ministro Whedon allora cosa significa che chi ha una cultura più in alto viene sbeffeggiato viene deriso perché la descolarizzazione che ha voluto soprattutto non una sinistra una parte di politica che si chiama sinistra ma che sinistra non è che bisognerebbe riportare la sinistra a fare la sinistra come dico sempre parlando di classe sociale parlando di scuola parlando di sviluppo del territorio quindi una socialdemocrazia illuminata comunque ce l'abbiamo sempre avuta anche tradizionalmente Gramsci Turati insomma lo stesso cracks beh lo hanno stessa sinistra democristiana con Moro con tanti altri li abbiamo avuti li abbiamo disconosciuti li abbiamo dimenticati e allora quando riusciamo a capire quando riusciremo a capire che queste guerre che noi aiutiamo ma inviando armi aiutiamo con i nostri silenzi col girarsi dall'altra parte porteranno sul nostro solo altri disperati che non hanno nessuna colpa poi ci facciamo queste invenzioni io non so se sono giusto sono sbagliate sono soltanto che una sentenza ha detto che sono sbagliate hanno sbagliato il giudice benissimo mandateli a processo ma ha sbagliato chi l'ha pensata ebbene fate destituitelo e fategli pagare quello che dovrebbero pagare gli italiani è soltanto questo che si chiede non si chiedono i miracoli sapendo perfettamente che non ci sono e poi si fanno le finanziarie lacrime e sangue per tutti ma non per tutte perché chi guadagna 30 mila euro l'anno che lacrime e sangue fa? chi guadagna 1200 quando ce li ha? beh la famiglia è difficile da portare avanti è difficile poter mettere a pranzo e cena pagare l'affitto magari comprare i libri pagare le tasse per la scuola anzi questi sì che sono dei ministri dell'economia e poi succedono gli scontri a Napoli quegli stessi che hanno manifestato hanno manifestato per cose giuste come tutte le manifestazioni che si cercano di impedire se ci sono degli infiltrati bene il compito dei servizi il compito della polizia il compito delle forze dell'ordere individuarli prima che si infiltrino o se non ci riescono a prenderli subito e portarli al di fuori della manifestazione perché manifestare è un diritto ma soprattutto il dovere del governo è quello di ascoltare chi manifesta non di ignorarlo e di prenderlo come un fastidio una seccatura questo è lo speciale di oggi grazie bene Pietro allora grazie per questo ulteriore approfondimento che ci hai dato delle notizie di notizie forse che da nessun'altra parte riusciremo mai a trovare che dire aspettiamo l'evolversi della vicenda aspettiamo cosa accade sia a livello nazionale ma principalmente a livello internazionale ancora qualcosa a fine ottobre ma speriamo dopo il ventiquattro di avere qualche segnale ma è troppo presto perché cambi qualcosa in maniera significativa ma il segnale già un segnale è qualcosa come stato un segnale come un segnale è stato quello della della spagna con il riconoscimento della palestina è rimasto isolato sì non ne ha parlato nessuno è stato è stata una cosa facciamo tutti facciamo no facciamo tutti no eccolo qua segnala questo è l'esempio questo è l'esempio che non cambia niente dall'altra parte girarsi dall'altra parte perché perché l'ordine dell'altro non è arrivato di cosa vogliamo parlare di niente nulla del nulla che riempie il vuoto ecco e con questa con questa tua frase con questo tuo dire salutiamo i nostri cari amici radio e telespettatori augurando una buona domenica e alla prossima sperando di dare delle notizie più serene e meno impattive grazie buona domenica a tutti domenica ciao la voce del meridione una voce libera informazione libera che da voce al territorio e alla gente seguici e iscriviti al nostro canale youtube e resta sempre informato